La necessità di maggiore protezione per le donne in seguito all'atto Barbaro a Palermo. L'atto recente di uno stupro di gruppo a Palermo ha scosso l'opinione pubblica e ha fatto emergere la necessità di una maggiore protezione per le donne in Italia e oltre. Questo atto, che non può essere definito se non Barbaro, ha evidenziato una serie di sfide che le donne affrontano quotidianamente in materia di sicurezza e violenza di genere. Prima di approfondire il tema della protezione delle donne, è importante sottolineare che la legge italiana protegge l'identità degli individui coinvolti in procedimenti giudiziari, inclusi i presunti autori di reati. Quindi, la pubblicazione dei nomi e dei cognomi dei ragazzi coinvolti in questo atto non è consentita per legge. Detto ciò, ci sono altre misure e questioni che possiamo esaminare per migliorare la protezione delle donne. 1. Educazione e sensibilizzazione. È fondamentale investire nella sensibilizzazione delle nuove generazioni sui temi del rispetto, del consenso e della parità di genere. L'educazione può contribuire a cambiare atteggiamenti culturali e a prevenire la violenza. 2. Miglioramento delle leggi e delle normative. È essenziale garantire che le leggi contro la violenza di genere siano efficaci e applicate in modo rigoroso. Inoltre, dovrebbero essere introdotte leggi che proteggano meglio le vittime di violenza. 3. Supporto alle vittime. È cruciale garantire che le vittime di violenza di genere abbiano accesso a servizi di supporto, come centri antiviolenza e linee telefoniche di aiuto. Questi servizi dovrebbero essere facilmente accessibili e adeguatamente finanziati. 4. Formazione delle forze dell'ordine. Le forze dell'ordine dovrebbero ricevere una formazione specifica sulla gestione dei casi di violenza di genere per garantire che le vittime siano trattate con sensibilità e che gli autori siano perseguiti. 5. Sensibilizzazione mediatica. I media hanno un ruolo importante nella percezione pubblica della violenza di genere. Dovrebbero essere promosse campagne mediatiche che sfidino gli stereotipi di genere e sensibilizzino l'opinione pubblica sui problemi legati alla violenza di genere. 6. Collaborazione tra paesi. La violenza di genere non ha confini. La cooperazione tra paesi può essere cruciale nel contrastare la tratta di esseri umani e altri reati legati alla violenza di genere. Questo atto barbaro a Palermo ci ricorda la necessità di lavorare congiuntamente come società per proteggere le donne e prevenire la violenza di genere. È un impegno che richiede la partecipazione di tutti, dalle istituzioni governative, agli educatori, ai mezzi di comunicazione e ai cittadini stessi. Solo attraverso uno sforzo comune possiamo sperare di creare un ambiente più sicuro per tutte le donne.